Nasce dalla volontà di migliorare la vita delle donne in difficoltà il nuovo progetto realizzato dall'associazione Giraffa Onlus in collaborazione con la Livella. 50 lezioni di cucina professionale tenute dallo chef Donato Carra, destinati a 50 donne vittime di violenza. L'obiettivo è insegnare alle donne l'arte culinaria e prepararle in modo professionale ad affrontare un'eventuale opportunità di lavoro nel mondo della ristorazione. Io credo che queste iniziative siano fondamentali perché come oggi ho avuto modo di dire è un nutrimento dell'anima nel senso che intanto stanno tutte quante insieme quindi fanno gruppo, riprendono anche la voglia e il desiderio di uscire e poi le stiamo affidando in mani professionalizzate quindi avranno sicuramente la possibilità di fare un ottimo percorso di formazione professionale. Le lezioni 50 in tutto si terranno nell'Istituto Salesiano Redentore di Bari dal 18 aprile al 7 dicembre. Le corsiste dunque avranno la possibilità concreta di essere formate come responsabili di cucina dalla creazione di un menu alla supervisione della loro stessa realizzazione. Il fine è anche formare gruppi di auto mutuo aiuto nell'ottica della sorellanza. Sono molto entusiasto di questa altra avventura culinaria targata Girafa Onlus e di Vella in cui cercherò di prepararle professionalmente queste donne e dandogli la possibilità di creare un'imprenditoria in casa con i propri fornelli.